Benvenuta a tutti, grazie per essere qui stasera con noi, scusate il piccolo disagio, non so se avete letto ci doveva essere un altro idealista, comunque abbiamo trovato un amico, grazie a tutti i cerchi. Salutiamo Jay Jay che è infortunato a casa, che si è sbracciolato prima di essere su e quindi, avete nome stasera. Questa è... Perfect Strangers. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.